Vediamo ancora il tiro corto, ancora tirerà sul pallino Michele, questa volta ha deciso di tirare la boccia, il pallino si sposta e rimane il punto di Agostini, vediamo cosa Dicola dichiara subito il pallino, Agostini spingeva la sua boccia per metterla buona per poterla tirare successivamente, errore sul pallino da parte di Dicola, non riesco a vedere dall'inquadratura se la boccia di Agostini è buona per la bocciata, sembrerebbe non è buona? Dicono di no Dalla regia dicono, ancora un errore sul pallino di Dicola Attenzione qui siamo veramente, potremmo essere diretti proprio alla fine, vediamo ancora vediamo se cercherà di buttarlo fuori, lo prende bene ma non esce, indirizza all'angolo però gli va bene Gli va un bel punto, un punto stretto, boccia il punto leggermente fuori bersaglio, l'altra gioca su circa due metri, Michele Agostini ha tre bocci in mano a questo punto, qui serve una bella bocciata presa dal verso e prendere il punto, non c'è da fare altro Per fare 9-3-12 Per fare 9-3-12, vediamo, giocherà con l'aiuto della tavola sicuramente, infatti scende lì la prende dal verso giusto, vediamo se però trattiene, no esce la sua boccia, punto rimane a Giuliano Di Nicola Adesso vediamo se prova a far partita, tirando la corta se è buona Vediamo la boccia corta, non sono riuscito a capire se, giustamente dice Fra, se la boccia corta era buona da bocciare non avrebbe tirato pallino di Nicola Di volo Di chiara di volo, quindi assolutamente Fra aveva ragione Quindi punto di volo, boccia la sua corta di volo da parte di Agostini, la possibilità di fare 9-3-12, vediamo, la sbaglia, la sbaglia, e quindi adesso a questo punto deve solamente tirare per raccogliere il punto Comunque lo fa tirare, in altre circostanze magari l'avrebbe lasciato Vediamo Sembra lunga la boccia di Michele Agostini, sembra lunga e si appoggia alla tavola Intanto aggiornamento dell'altro campo, Francesco, Marco ci dice che stanno sul punteggio di 11-10 per Patrignani su Savoretti Si ritorna ai 22 metri e al centro campo, dopo una breve parentesi sul tiro corto, un po' strana ritorniamo ai 21 metri addirittura Una boccia sui 50 Subito alla bocciata Agostini Vediamo, sotto mano va subito all'attacco Michele, la prende, non la centra Qui i laterali girano in maniera vistosa, risale la boccia di Nicola, appunto rimane 10-9 in favore di Giuliano e di Nicola Ancora non termina dall'altra parte, anche là siamo sul filo di lana, come si dice Non esattamente buona questa boccia, leggermente lunga, gioca circa 60 Sicuramente di Nicola decide di andare all'accosto, infatti è così Vediamo come svilupperà la sua giocata, è ottimamente indirizzata, sembra perfetta Infatti tocca leggermente il pallino, fa due pezzi La possibilità di scaricare sul pallino, di prendere il rimpallo Anche sulla sua Stacca circa due centimetri il pallino dalla boccia Qui potrebbe succedere di tutto, dipende da come viene colpita Va la bocciata La tira piano, la tira piano, la prende bene Ha buon gioco a fondo campo, addirittura arriva anche la sua Mette due punti Ottima la giocata di Michele Agostini, ma anche fortunata Ottima, bravo e fortunata Francesco, cosa fareste adesso in questo momento? In questo caso avrei fatto proprio quello che ha fatto Giuliano Nicola Andavo a visionare il gioco, respiravo un attimo, vedevo il da farsi Sicuramente la boccia del punto è il gioco più scontato da fare Molto importante questo passaggio Dichiara la laterale Dichiara la laterale da prendere mezza per mandarla a punto Ma francamente non condivido molto la scelta Perché la boccia del punto secondo me era leggermente più indietro Più verso di Nicola Stavolta la colpisce, tira il pallino, carambola il pallino Ha avuto ragione lui, ma ha avuto anche un po' di fortuna Perché il pallino è andato proprio dove ha detto lui Adesso il gioco 11 a terra e adesso il gioco lo deve andare a vedere Michele Agostini Ma se colpisce adesso può anche fare 9-3-12 La boccia del punto, la vede, tira convinto Si, si vede bene Può fare anche 9-3-12 Vediamo La tira piano La boccia scende Prende il pallino Lascia partita Lascia partita di Nicola Lascia partita Lascia partita Vediamo se la boccia è corta Sono due punti di Nicola Lascia partita clamorosamente Se prende un pezzettino di boccia Fa lui partita Ha preso il pallino Che era sotto la pancia della boccia Addirittura è questione di Faccio Grazie Grazie a tutti